Ricerche per la storia di Barletta, il titolo del seminario svoltosi nella Biblioteca Comunale Loffredo di Barletta per presentare i lavori prodotti dei borsisti del progetto Storia della Città, coordinato dall'Associazione del Centro Studi Normanno Svevi, un progetto ludevole che premia l'impegno di cinque giovani ricercatori che hanno lavorato su un patrimonio della città, facendo scoprire nuove ricchezze presenti a Barletta, come spiega il coordinatore del progetto, Victor Rivera Magos. Un volume, un codice pergamenaceo conservato nella Biblioteca Comunale, dove ci sono gli statuti del Quattrocento, il codice pergamenaceo del Santo Sepolcro, notissimo quello che la tradizione vuole portato a Barletta dal Patriarca di Gerusalemme, Randulfus, alla fine del Duecento, e poi, grazie anche all'impegno dell'Arcidioce, si è stato possibile lavorare sui reperti archeologici trovati durante gli scavi del sottosuolo della cattedrale di Barletta, che giocevano nei depositi da più di vent'anni, perché appunto non era ancora stato possibile valorizzarli al meglio. Ancora c'è chi ha lavorato sul coro ligno e l'altare del riquiario della chiesa di Sant'Andrea, o ancora sugli scavi di via Vitrani, con una ottica di valorizzazione museale degli stessi. Nelle ricerche storiche, grande interesse riservato alla cattedrale di Barletta, nel cui sottosuolo sono emersi reperti di straordinaria importanza. Dal punto di vista, diciamo, di datazione, considerando un po' la storia della nostra cattedrale, allora qui c'è la presenza, la testimonianza, di pezzi che vanno dal IV secolo a.C. sino alla successiva edificazione di resti di basiliche ancora evidenti nell'area archeologica di Barletta, che è la basilica paleocristiana del VI secolo d.C. e quella alto medievale del IX secolo. La giornata di lavori interamente dedicata alla memoria di Giulio Reggeni, ricercatore italiano barbaramente torturato e ucciso in Egitto, cui è stata intitolata una delle sale studio della Biblioteca Comunale di Barletta. Grazie.